Il Ministero dell'Interno ha destinato al Comune di Vicenza 47.000 euro per destinarli al progetto Scuole Sicure attraverso un sistema di videosorveglianza che abbiamo già indicato in alcune scuole della città, in particolare nei pressi del Fusinere Piovene e della stazione SVT delle Corriere, dove passano moltissimi studenti, e sarà questo uno dei temi. A fianco a questo poi c'è il tema dell'unità cinofila con un cane antidroga che è destinato ad essere allevato dalla Polizia Locale, quindi all'interno della nostra Polizia Locale, con un addestratore e un agente che lo seguirà nella sua crescita, nella sua formazione e andrà a fare servizio di verifica sul territorio. Quindi controlli all'interno anche delle scuole? Nelle immediate vicinanze e poi all'interno delle scuole in coordinamento con le forze di Polizia Carabinieri.